Rischia di finire nelle aule di un tribunale la vicenda della cantiere al teatro d'annunzio nel bel mezzo dello svolgimento del Fraiano Film Festival. Dopo aver annunciato alla stampa su quanto scoperto stamani durante un sopralluogo per la cerimonia conclusiva dei cinquantesimi premi Fraiano in programma domenica prossima, la presidente dei premi, Carla Tiboni, invece che ricevere spiegazioni, sarebbe stata attaccata da diversi amministratori pubblici con la pubblicazione di foto vecchie, come se le foto scattate dalla stessa Tiboni questa mattina intorno alle 11.30 sul posto fossero false. Attacchi personali che denotano, secondo la Tiboni, un livore ingiustificabile di questa amministrazione nei confronti di una realtà culturale che al contrario dovrebbe essere vista come un vanto. Tutto questo proprio nel cinquantesimo anniversario alla vigilia di una cerimonia che porterà a pescare a premi Oscar come Ellen Mirren e personaggi di grande prestigio nazionale ed internazionale. In un post sui social, Carla Tiboni manifesta tutta la sua amarezza annunciando di volere a questo punto dire alle vie illegali. Scrive la Tiboni, ringrazio chi mi ha diffamata perché con le cause civili che intenterò contro di loro finanzierò iniziative culturali. Ringrazio chi ha espresso solidarietà per i premi internazionali Fraiano che, secondo qualcuno, a fronte di un contratto dovrebbero proiettare film in una platea cantierizzata. Pescara merita di più. Grazie a tutti.